allora mettiamoli le conoscenze gomme medie assetto da dare più 5 questo va benissimo e poi piede leggero le gomme intermedie quelli intermedi quali sono quelle medie mettiamo quelle media va non credo che ci sia pioggia oggi vediamo nuvoloso vabbè come me assetto da gara piede leggero gomme intermedie infermire le condizioni l'auto diminuisce ok scegliamo questa qua che distrugge un pochettino di meno l'auto conferisce maggiore durata ok setup della vettura allora durata sessione 17 giri ovviamente dobbiamo fare sempre tre pit stop ok facciamo i due pit stop dopo cinque giri in questo di conseguenza dopo due pit stop saremo a 10 giri e ne rimarranno ancora sette da fare e lì poi monteremo le gomme intermedie adesso direi di rimettere le gomme morbidi ok queste qua perché con questa strategia credo che sia la miglior cosa ok lei solamente 4 vai vai così pronti partenza via incominciamo la gara vediamo un po che cosa esce stavolta ora vediamo l'obiettivo è sempre arrivare almeno noni se non sbaglio allora non ho capito perché partiamo in ottava posizione boh quindicesima lei otta e ottava lui vabbè lei subito d'attacco ok molto bene lui è già quinto lei invece è tredicesima dodicesima undicesima bene 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 decima sta andando alla grande ok lei sta girando davvero da paura è incredibile speriamo di non fare troppe cazzate con la fermata ai box ottava posizione per lei e quinta per lui bene 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 ok lei deve tornare ai box dobbiamo metterli benzina e lui lo facciamo entrare invece al giro successivo ok facciamo entrare anche lui adesso opzione carburante ok visto che le gomme sono ancora messe bene direi di spingere al massimo per quanto riguarda i sorpassi vediamo se riesce arrivare al quarto posizione va bene che adesso entra nei box quindi serve a poco ok mettiamo come modalità motore media perché deve risparmiare benzina lei siamo terzi e quarti guardate come si danno battaglia c'è lui che la sta rallentando ma porca miseria ok c'è il quinto lì cavalcanti che mi sembra abbastanza cavalcare l'onda e fra un po ci supererà mannaccia lei l'ho messa praticamente al risparmio totale di benzina perché sennò non riusciamo a finire la gara le gomme cominciano a consumarsi ok vai tranquillo no 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 vai tranquillo un paio di palle sta messo davvero male con le gomme ma porca miseria ho sbagliato sbagliato qualcosa mi ha superato la tipa si è fatta infilare di brutto in che marchetta si è fatto infilare da tutti dai che non ci credo allora facciamolo entrare ai box va o non l'ho già passato no ok dobbiamo cambiargli le gomme perché altrimenti non ce la facciamo e mi sa che non ci riusciamo a stare dentro con la benzina mannaccia tutto il resto va bene ok dai proviamoci facciamo la stessa cosa anche per lei gli mettiamo tutto il carburante possibile ok il cambio sta messo un po maluccio però rischiamo lo stesso dai quindi siamo sesti e sedicesimi vediamo vediamo come va ok lei siamo andati proprio giusti sia col carburante che con i pneumatici adesso possiamo mettere un pochettino di più il motore manteniamo neutrale lo stile di guida e vediamo un po cosa succede ok ce l'abbiamo di nuovo vicino stanno combattendo tra di loro ottavi e noni ahia lui si lamenta del cambio ahahahah siamo fottuti non arriviamo fino alla fine porca miseria eh l'avevo detto che il cambio era messo male ok lei ce l'ha al 30% mentre lui il cambio è al 24 ai 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 e rimangono ancora tre giri abbondanti speriamo ok ok manca quasi un giro e siamo come carburante siamo messi proprio al pelo per riuscire a terminare la gara i pneumatici stanno messi anche un anche così così è uno lui il cambio è andato è andato quel paese il cambio e non possiamo fare niente mi spiace per te porca miseria peccato perché era sesto era non era per nulla male come piazzamento ultimo giro forza ragazzuoli miei forza settimo e sesto non sarebbe male non sarebbe male nonostante i problemi guardate la benzina al pelo no forse non ci arriviamo no non ci arriviamo si manca pochissimo no lei l'ha finito è andata bene ragazzi ok possiamo essere soddisfatti meno male meno male no abbiamo perso lei ha perso due posizioni mi sa una o due posizioni va bene dai abbiamo preso l'obiettivo degli sponsor quindi tutto sommato è andata bene 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 pensavo peggio con la benzina avete visto siamo arrivati proprio al pelo neanche con il cambio sto cambio dobbiamo veramente aggiustarlo ok ci controllano l'auto ce l'abbiamo posto benissimo luigi grande luigi quinto nonostante fosse la macchina peggiore dei due è riuscito arrivare quinto molto bene no non ho visto octane siamo siamo ancora terzi molto bene bene ragazzi con questo discreto successo io vi lascio concludiamo qual video spero di riuscire a farlo entrare tutto se vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo la prossima puntata ciao a tutti come on se il video ti è piaciuto e ti senti un po più paciuto non lasciare il tuo compito incompiuto non fare il cornuto un like è doverosamente dovuto ciao 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 ciao